No, guardi, la Regione Veneto ha adottato questa legge regionale, ma in realtà a Padova, penso non sia stato detto nel servizio, a Padova già da un anno e mezzo abbiamo approvato una norma per cui c'è una precedenza per i cittadini che sono non tanto italiani, che sono residenti nel comune di Padova da più di 15 anni. Stessa norma che abbiamo applicato anche per quanto riguarda le case popolari, a Padova si ottiene un punteggio secondo la legge regionale di 8 punti in più, a Padova lo applichiamo col criterio della residenza. Questo ha permesso che il 95% degli italiani con la prima assegnazione hanno ottenuto una casa, cosa che non succedeva in precedenza perché le assegnazioni in precedenza erano circa il 50%, 50% stranieri e 50% italiani. Quindi la risposta è sì, è una norma contro gli immigrati perché se il tema è che poi modificando le carte in tavola si modifichi il risultato, diciamo uno pensa che lo facciate per il risultato e cioè più casa agli italiani o più asilo agli italiani e meno agli immigrati. Ma non c'è di male a dirlo, se è questo però lo diciamo com'è. Ma il criterio corretto è che un sindaco dovrebbe rispettare i cittadini che pagano le tasse. Un criterio corretto perché ci sono cittadini che sono residenti nel comune da più anni e io penso che essendo residenti da più anni hanno anche dimostrato di accettare una certo usi, consuetudini del luogo e hanno pagato anche più tasse.